Ispettore Otto Zampe! Una persona è sparita! Vieni presto! Ispettore Otto Zampe. Detective di fama mondiale. È il detective più in zampa del mondo. È il migliore! Dammi retta, è solo fortunato. Non ho fatto niente! E dovrà risolvere un mistero. Fermo! In nome della... Per poco non hai ucciso tutti! Ecco perché lavoro da solo. L'ispettore Otto Zampe è il mistero dei misteri. Dal 31 dicembre al cinema.